e buonasera siamo qui con questi signori quel signor e ha voluto questa questa sera ha voluto presentare questo questa tavolina che voi altri vedete qua e lo parlo così in italiano dopo lo facciamo in genovese eppure parliamo genovese tu lo sai voi altri lo sapete allora il signore mi dice che derivato della 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 Germania volono presentare e oggi tardi oggi sera come vedete il sole casca in questa ora che siamo adesso vicino di 18 15 30 forse allora signore 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 com'è il tuo nome? Ugo Meraviglia il signore va a dire qualcosa al rispetto di questo mangiare che voi altri sapete di che cosa vogliamo dire parliamo del ciucruto lo conosci e allora se prepara questo con una adecuata formula o qualcosa con la con su costumbre con la receta original es una comida preparata con la receta original de Alemania este en este caso è un plato alemanzo che si realizza con un carretto alemanzo che si realizza con un carretto però bene lo lo adaptiamo e lo reacomodiamo per poter disfrutarlo in questo Oktoberfest trasladandolo in San Guchito allora dice lui che lo facciamo con la formulato veramente con il derivato della Germania lo facciamo con come volete sapere come volete sapere voi altri come sapere voi altri con con la carne di con la carne di maiale è giusto quello e lo fanno proprio proprio della formula che si si fa nella Germania a loro dicono che sono venuti venuti qua a questo posto tanto bello così con le palme come vedete indietro e Usted entonces lo hace in una forma molto artesanale naturalmente no? Totalmente totalmente se realizza in forma artesanale comida fresca è tutta la comida di oggi se realizzò oggi alla mattina per traerla ora e servirla in questo momento chiaro loro e il signore dice che sono mangiato sono pranzo fresco che l'hanno fatto oggi precisamente per questa per questa sera e voglio dire rispetto a mio rispetto a mia opinione allora è un arrivederci dicono loro adios saluto 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 per l'Italia saluto per l'Alemane ,sai anche io ti saluto anche io che sono qui con questa gente ho fatto un femma in zainese che non è uguale che fa in italiano ti capisco tu Ugo e tu e tu Rosa tanto un abbraccio forte di questo cugino di Dimentio e tuo cugino tanto lontan qui a Soldini ciao Grazie a tutti